Uno spettacolo di burattini fatto con i piedi, ma in questo caso non in senso negativo, bensì con tutta l'accezione positiva e professionale, portata a Trani dall'artista internazionale Veronica González, venuta dall'Argentina per inaugurare la 14esima edizione di Raccontando sotto le stelle, all'interno del boschetto della villa comunale di Trani, si è tenuto uno spettacolo senza precedenti per la città dal titolo C'era due volte un piede, un'idea originale per uno show di burattini fatto con l'utilizzo dei piedi. Quindi fatto male, in realtà in Argentina non c'è questo modo di dire, l'ho scoperto qui in Italia, mi ha fatto molto ridere questa cosa, devo dire che sono molto onorata di essere qui a Trani che è una città bellissima, il palcoscenico è molto affiato veramente. L'edizione 2021 del festival organizzata da Marluna Teatro e Libreria Miranfu con la direzione artistica di Maria Elena Germinario e Vincenzo Covelli gode del sostegno della regione Puglia attraverso il programma straordinario in materia di cultura e spettacolo per l'anno 2020 ed è patrocinato dal comune di Trani e assessorato alle culture nell'ambito di Trani ti incanta, ricco il cartellone di eventi sul tema delle connessioni. Perché in fondo dopo un periodo di difficoltà per tutto il mondo dello spettacolo e del teatro l'unica forza che ci ha fatto venire fuori, fatto riemergere è stata proprio l'unione, la collaborazione, la rete che si è creata con tutti i partner, infatti il festival conta quasi 25 partner e le connessioni con i principali festival che ci sono nella città di Trani. Quindi abbiamo unito le forze, abbiamo unito le esperienze, le professionalità e siamo riusciti a tirar fuori una tematica che si svilupperà in un lunghissimo periodo di tempo. Edizione scoppiettante, quest'anno la rassegna è diventata un vero e proprio festival grazie anche al contributo della regione e questo ci ha permesso anche di aumentare gli spettacoli. Sino ad ottobre a Trani ci saranno sei spettacoli teatrali e 18 piccoli eventi tra letture e laboratori, attività dedicate a bambini e ragazzi, proprio loro sono i veri protagonisti della 14esima edizione di Raccontando sotto le stelle assieme agli artisti che hanno in serbo tanta voglia di ripartire dopo mesi difficili. Siamo consapevoli del fatto che per ripartire soprattutto in uno dei settori più duramente messo alla prova era necessario un intervento da parte nostra di formalizzare questa connessione e lo abbiamo fatto proprio grazie al piano triennale delle attività culturali.